So che tu ieri, dove siamo venuti anche noi intanto, per un attimo, con un collegamento. Il nostro presidentissimo Francesco Zarbano, eravamo ieri a cantare l'inno della UEFA Champions League proprio per l'apertura della UEFA Champions Festival a Piazza Duomo a Milano e è stata una sensazione incredibile per poi la sera effettuare il nostro concerto gospel perché insomma, ok, le miliose keep the champion, però poi c'è anche un po' di tiro black. Esatto, e quindi com'è stato? Che emozione è stata? Per me è stato il terzo concerto... Guarda, guarda, vi vediamo qua in una foto. È stato il terzo concerto che, almeno io personalmente, ho svolto a Piazza Duomo con l'Italian Gospel Choir e ogni volta, devo dire, è un'emozione straordinaria perché trovarsi una piazza gremita, vibrante, piena di vita, piena di voglia di musica è sempre un'emozione incredibile. Insomma, quindi c'è voglia anche di musica gospel. Gospel. E questo, insomma, questo inno della Champions che tu hai un attimo minimizzato adesso perché di sicuro il resto è stata la parte più bella, però credo sia stato suggestivo. Suggestivo o soprattutto particolare perché cantare in tre lingue differenti che sono inglese, francese e tedesco non è... come direbbe proprio un pezzo del brano, però guarda, alla fine quando hai la musica, la band che ti accompagna sul palco e sei in questa situazione a cantare per una coppa così prestigiosa per due passioni che almeno a me... Sei appassionato di calcio? Io sono... Irti un po' sarebbe un eufemismo, però... Sì, cantare per due grandi passioni è stato il massimo. Grazie.